Buonasera, oggi parliamo di rose rosse, le rose rosse. Eccoci qua, stasera parliamo delle rose rosse. Ma perché voglio cominciare dalle rose rosse? Per il semplice motivo che il giardiniere, quando vuol far crescere delle belle rose rosse, decide, deve tagliare e potare le altre. La sottrazione è finalizzata al taglio per migliorare il livello qualitativo delle rose del giardiniere. Sulla base di questo principio del taglio dobbiamo fondare le nostre abitudini. Le abitudini, tante volte, quando vai ai corsi di motivazione, corsi di marketing, di leadership, tu stai tre giorni completamente immerso in quella materia. Ma quando torni a casa e torni al tuo lavoro a casa, le cose cambiano perché hai dei ritmi diversi e delle abitudini diversi. Ecco perché solo il 5% di chi partecipa ai corsi di formazione è in grado di applicare quel tipo di informazioni perché hai già un'abitudine ad applicarle. È un discorso di abitudine ad applicarle. Allora, come facciamo a inserire le abitudini che abbiamo già scoperto anche in altri podcast, a me molto care? Dobbiamo usare la tecnica della sottrazione, di iniziare con poco sostanzialmente. Se io adesso dovessi chiedervi, leggete un libro a settimana, voi magari se siete entusiasti perché avete fatto un corso, cominciate, ma poi vi fermate perché sicuramente è un ritmo di tempo notevole sapendo che un libro ci possono andare dalle due o tre ore. E chi, se non hai a questa abitudine durante la settimana, come fai a poterlo poi applicare? Ora, perché se io però vi chiedessi, signori, perché non leggete una pagina al giorno? Per quello meno di 60 secondi. Ora, cominciando con un'abitudine di questo tipo, tutti i giorni, sabato e domenica, isole comprese, io sostanzialmente sono in grado di far sì che a un certo punto, in maniera automatica, tu leggerai il libro, ma viene da solo. E come iniziare a correre? Corre dire a inizio a fare mezz'ora al giorno? Non è poco mezz'ora al giorno. Molto i primi giorni, quando tu hai molto entusiasmo, per la prima settimana ce la fai, poi cali. Ora, come facciamo per evitare questo crollo? Perché non correte 5 minuti al giorno? E quando non potete fare 30 minuti, fate almeno il giro dell'isolato. 10 minuti, 5 minuti, 3 minuti. Ma l'abitudine deve essere sempre affrancata nella vostra memoria. Io quando sono stanco, che magari quel giorno non posso o non ho voglia di correre, scendo lo stesso, nello stesso orario e faccio un giro a piedi anch'io. Cioè faccio 10 minuti, un quarto d'ora a piedi, con il mio, ovviamente sempre il mio podcast in lettura, che mi ascolto, ma diventa un mio momento. Mi organizzo nel modo tale che quella mezz'ora o 10 minuti, se non c'è, però rimane una costanza di una vita. Devo fare per 3 settimane, far sì che quel piccolo, grande che sia, entri nella mia modalità di abitudine. Ora, da questa storia impariamo proprio questo aspetto fondamentale. E c'è una bellissima storia che voglio raccontarvi, proprio su questo concetto. Se io ho in mano un fiammifero e dall'altra parte ho un tronco enorme, ok, e mi si chiede di accendere il fuoco, io la prima cosa che faccio è accendere un fiammifero dove lo sforzo fisico non è elevato. Poi se sono un MacGyver della situazione, io posso benissimo usare quel fiammifero per accendere il tronco, ok? Però viene di conseguenza il tronco. Mentre se vogliamo partire subito dal tronco, il problema è che ci stancheremo, non saremo in grado di implementarlo. Per quello io devo sempre dire a molti, perché questa è una lezione che mi son preso anch'io, perché il mio entusiasmo, ad esempio su livelli troppo alti cognitivi, che presi poi dalle giornate molto frenetiche di tutte le attività nostre, di voi, della giornata, la famiglia, il carico lavorativo, non ce la si fa. Fino a quando essa non diventa un'abitudine potente che vuol dire che io la farò lo stesso. Prima devo fare delle abitudini la quale la risposta è la faccio lo stesso, cioè la faccio. Ora, perché non ho nessuno sforzo? Trenta secondi, un minuto, due minuti, cosa sono? Però due minuti. Vi faccio un esempio banale sulla lettura, che vi può far capire come la valanga di questa piccola abitudine determina un anno. Ne parlavo ieri con mio cognato, e ho detto, ma tu quanto leggi? Perché non leggi un quarto d'ora al giorno? Che cos'è un quarto d'ora? Dieci minuti al mattino, dieci minuti alla sera. Punto. Non si sta chiedendo uno sforzo di star via ore. Dieci minuti al mattino, dieci alla sera. O dieci o cinque. Un quarto d'ora al giorno. Un quarto d'ora al giorno, moltiplicato per un anno, fa ventun libri in un anno. Domanda, quanti libri leggi adesso? Ora, ventun libri, signore, leggendo un quarto d'ora. Ora, cosa vuol dire essere competitivi su un mercato dove tu mediamente puoi fare ventuno, venti o trenta libri in più rispetto al tuo competitor? Perché il lavoro è competitivo e devi essere competitivo in quella materia. Poi se vorrai mettere giù l'acceleratore da vinte e arrivare a quaranta non è così difficile. Però, senza grandi sforzi, tu fai ventun libri all'anno nella tua materia. Con venti o trenta libri tu sei una persona che comincia a saperne un po' di più del tuo collega di banco, del tuo collega di lavoro, senza aver fatto nessuno sforzo. Vuol dire che al posto che fare il quarto d'ora di X, vi faccio un esempio banale. Non è solo la lettura del libro, ma è anche... Oggi ci sono, per fortuna, una marea di podcast nella vostra materia. Io parlo di letture professionali, non sto parlando di letture di romanzi, letture del vostro lavoro, che fanno crescere la vostra persona sul vostro lavoro. Lavoro su voi stessi, penso corsi motivazionali, corsi di leadership, corsi di gestione del personale, tutto quel mondo che può essere sulla migliore presentazione, public speaking, tutto quel mondo ovviamente legato al miglioramento della persona. Pensate oggi che io quanto tempo, anche solo andare a correre, quando io faccio mezz'ora di corsa, io mi faccio sempre mezz'ora di podcast. Ci sono marea di podcast, io leggo i libri, audiolibri, me li leggo mentre faccio la corsa. Correndo mezz'ora al giorno fate i conti che io mi sento sostanzialmente quante ore in un arco di una settimana una marea. Perché faccio 20, 20, mezz'ora anche io di... poi quando corro un po' di più faccio anche un'ora di libri. Per quello è ovvio che un corso lo faccio fuori in una settimana senza problemi, leggendo tranquillamente, leggendo i libri. Più i libri scritti quando sono al mattino che mi alzo. Ma lo sforzo che in questo momento non mi pesa a zero perché mi sono costruito un'abitudine. Prima di andare a dormire mi leggo una 20 minuti l'altra volta, al mattino. Oppure più gli audiolibri si sono... adesso viaggio un po' meno ma pensate a quelli che viaggiano in macchina o in treno. Ma vi rendete conto che potete leggere migliaia di libri? Migliaia, sto un po' esagerare, ma nella vostra carriera sì. E in un anno potete arrivare benissimo a 40 libri senza accorgervi. Ecco, pensate a quello che potete fare sulla vostra investimento personale. Questo è il mio messaggio. Investiti su voi stessi con uno sforzo minimo. Ok? Per quello togliete altre cose ogni tanto e cercate di ascoltare. meno Whatsapp, meno Facebook e più libri. Grazie a voi e buona e buona serata. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.